L'ultimo saluto ad un gentiluomo prima che politico di spessore. Bari si stringe attorno a Simeone di Cagno a Brescia. Sono stati celebrati oggi i funerali dell'ex sindaco che ha amministrato la città dal 1995 al 2004, scomparso ieri all'età di 80 anni. Dopo la Camera Ardente allestita a Palazzo di Città, nella sala del Consiglio Comunale, la cerimonia si è svolta nella Basilica di San Nicola. Rappresentanti istituzionali, esponenti politici e personalità dell'imprenditoria, ma anche comuni cittadini, hanno riempito la chiesa per partecipare al rito. È stato padre Giovanni Distante, priore della Basilica, ad accogliere il feretro. Presenti gli esponenti del centro-destra regionale che hanno ricordato di Cagno a Brescia, sottolineando l'importanza della sua figura per lo sviluppo della città di Bari. È colui il quale ha fatto rinascere la città, il piano urban, i parcheggi sotterrani, la rigenerazione etica della politica. Ripeto, rigenerazione etica della politica. Un gran signore, un gentiluomo che tutti ricorderanno per sempre. Un gentiluomo, un galantuomo, direi il sindaco più importante che Bari ha avuto ultimamente, quello che è stato capace con garbo, senza guasconate, senza sceneggiate, di dare a Bari una spinta vera. La città vecchia oggi è così, soltanto e solo per merito suo.